C'è qualcuno che ha chiuso in Italia l'intelligenza artificiale, nella fattispecie il chat di CPT, Elon Musk, ha annunciato che c'è stato un enorme accordo fra tutti i licenziati che stanno studiando l'intelligenza artificiale per dire stop. Non possiamo andare avanti così perché è sicuro che qualcosa di brutto accadrà se andiamo avanti a sperimentare in questo campo ad cazzum. Perché adesso c'è questo dibattito? La ragione è molto semplice. Gli uomini hanno dominato il pianeta. Se lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto perché siamo più intelligenti. Ed è chiaro che se dovesse esserci uno sviluppo di un'intelligenza artificiale che si autoalimenta, che diventa più intelligente dell'intelligenza umana, il quesito si pone. Perché effettivamente noi il dominio del mondo l'abbiamo avuto solo grazie a questo. E da qui nasce l'interrogativo. Non è così facile dare una risposta se ci sarà un'intelligenza superiore a quella umana. Detto questo, proibire chat GPT come è stato fatto qui in Italia è ridicolo. Sono tutte una serie di tematiche che richiedono che l'umanità si unisca, che trovi una via comune.